Così come ora io che mi ricordo io non è mai successo mai 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 che poi figurati ha sfondato un muro nuovo fatto ora Adesso giù al porto hanno tutto rosso speriamo che smaltissi hanno fatto due buchi E' fino ad andare là ho capito però voglio dire si possono fare i livelli così si possono fare i livelli così cioè che se sotto la strada e laggiù sono sul mare sono a 50 cm più alti che qua che qua, che qua, che qua, vedi 50 cm e qua laggiù sono alti così E' da urli, trovi da urli Il fiume e il mare non riceve più perché c'è mare mossa Il fiume sta isondando a continuazione Speriamo che hanno rotto i muretti di là che stanno facendo defluire l'acqua Vedete dove sono le ruspe? Sì Hanno rotto gli argini Hanno rotto i muretti lì del mare Si E si stanno mettendo in New Jersey per fare defluire l'acqua Per cui ora sta defluendo comunque Speriamo ha detto che qualche centimetro è calato Per cui sanno нужен la speculazione No Assolutamente Se